La Chiesa di Gerusalemme mandò Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di spirito santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo, lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. La pagina che abbiamo appena ascoltato è una pagina generativa delle origini cristiane. Qui noi abbiamo ricevuto la nostra identità, abbiamo ricevuto il nostro nome. Ma dietro questa pagina generativa c'è anche un rapporto privilegiato tra due persone, tra un adulto maturo, Barnaba, e un giovane inquieto, Saulo di Tarso. Saulo non entra nella storia cristiana come un fungo che nasce all'improvviso, ma cresce grazie al contributo di tante persone. Stefano, Anania, Barnaba, Gamaliele. Scegliamo tra queste persone proprio la figura di Barnaba che diventa l'educatore vincente perché custodisce in sé cinque tratti privilegiati. Quali sono questi tratti? Il primo, Barnaba è uno che vede la grazia di Dio. Quando Barnaba arriva ad Antiochia la città è ferita, è ferita dalla persecuzione, è ferita dalle morti violente, è ferita dal dolore. Però Barnaba sa vedere la grazia di Dio. E chi vede la grazia di Dio insegna uno stile di vita luminoso e grato, luminoso e riconoscente. È questo il primo dono che Barnaba farà a Saulo. Se andiamo a vedere con attenzione l'epistolario Paolino noteremo che tutte le lettere di Paolo contengono il motivo della gratitudine. Ed è bello pensare che questo aspetto, questo tratto, lui lo possa aver appreso proprio da colui che gli è stato padre, Barnaba. Ma c'è un secondo aspetto che caratterizza l'arte educativa di Barnaba. Barnaba è l'uomo che esorta. Di fronte alle difficoltà non è uno che compiange le persone che si rivolgono a lui, ma le invita a stare con cuore risoluto, fedeli al Signore. E allora qui si entra in un'altra dimensione che è quella della forza, della capacità di reggere con forza alle prove della vita. È un altro aspetto che caratterizza le lettere di Paolo. Accanto alla riconoscenza c'è la parte esortativa in tutte le sue lettere, fatte per consolidare l'azione del Signore. E arriviamo al terzo tratto. Barnaba è un uomo pieno di spirito santo. Sa cioè a chi appartiene la regia reale della nostra vita. Noi possiamo conoscere benissimo noi stessi. Possiamo avere bene in mano le nostre qualità e valorizzarle fino in fondo. Ma è sempre importante tenere presente che il regista è lo Spirito Santo. E quando uno sa che il regista è lo Spirito Santo, anche di fronte a un contattempo, anche di fronte a un ostacolo, anche di fronte a una sofferenza, sa che lì c'è un'azione più grande di lui e si mette in un atteggiamento di obbedienza. Quali sono le pagine più belle del Nuovo Testamento che ci parlano dello Spirito Santo? Quelle delle lettere di Paolo. Ma dove Paolo ha imparato a conoscere lo Spirito Santo? Da Barnaba che era un uomo pieno di Spirito Santo. E arriviamo al quarto tratto di Barnaba. Parte per Tarso alla ricerca di quel giovane inquieto che lui aveva già avuto modo di conoscere e di presentare alla comunità madre di Gerusalemme. Spesso noi diciamo chi fa da sé fa per tre. Barnaba non la pensa così. È sempre meglio lavorare insieme, non da soli, per rendere feconda l'opera di Dio. Ed ecco che va a cercare il persecutore convertito. Perché forti una parola di speranza nella comunità perseguitata di Antiochia. Anche questo colpirà molto Paolo, al punto tale che tutta la sua missione sarà una missione arricchita da un centinaio di collaboratori, corresponsabili insieme a lui delle chiese. E l'ultimo tratto di Barnaba, l'ultimo tratto è quello di lavorare insieme, non per un anno ma per due, per tre, con questo giovane. Anche se i due hanno prospettive diverse, caratteri diversi, perché l'unico corpo di Cristo che è la chiesa si costruisce valorizzando le diversità di ciascuno. Cinque tratti quindi vincenti nell'educatore Barnaba, che sono la capacità di vedere la grazia di Dio, la capacità di esortare, l'essere pieno di Spirito Santo, la capacità di coinvolgere e di lavorare insieme. Allora capiamo perché il testo si conclude in quel modo fine e stupendo. Una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Un modo di lavorare così non può che essere generativo e fecondo. E allora ci auguriamo anche noi di saper imparare questi cinque tratti per costruire comunità generative e feconde dove anziani e giovani possano crescere insieme.